Dramma sfiorato nella giornata di ieri all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Un bimbo appena nato è rimasto ustionato mentre faceva il bagnetto nel reparto di neonatalogia dell'azienda ospedaliera a lavare il piccolo le puericultrici del nosocomio. L'acqua troppo calda gli avrebbe causato ustioni di secondo e primo grado sul 30% del corpicino. Il neonato fortunatamente non in pericolo di vita è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli. Intanto la direzione generale del Ruggi ha aperto un'indagine interna per accertare le cause di quanto accaduto. Potrebbe essersi trattato di uno sbalzo termico, un evento sentinella che ha acceso l'attenzione sulla struttura. Intanto i sindacati lanciano l'allarme sulle condizioni in cui operano i dipendenti dell'azienda ospedaliera salernitana. Purtroppo devono essere casi negativi di questi livelli per rimarcare sempre il fatto che c'è la necessità di una riorganizzazione generale di riconoscere le professionalità interne e di rivedere il fabbisogno del personale. Certamente ogni caso va discusso a sé e ogni caso sarà poi la magistratura interna ed esterna a verificare le responsabilità che ci sono e su questo noi non entriamo nel merito. Ma il lavoro che ci compete a noi sindacati ma anche all'amministrazione della sanità è quello di prevenire e di far lavorare in modo sereno, tranquillo il personale all'interno della struttura. Chi entra in un ospedale pubblico deve avere la certezza e la garanzia che esce da quell'ospedale, da quella struttura meglio di come è entrato.